Piazza Brembana Piazza Brembana Piazza Brembana mi dice che ho avuto un bel uomo Giovanni e poi la tigisiede Ciao belli Ciao belli Ciao belli E allora spettro perché quando fai il seno ho il sguardo penetrante ma stiamo a penetrare mia però non è ma ciò non va Pronti? Ciao Due bici, sono ancora qua Sì, solo salita Sì, solo salita Solo salita Sto riuscendo a piedi e la bici viene giù e seggio via Giusto Sì No, non ha capito niente No, non ha capito niente No, non ha capito niente Se ha dovuto meccanizzare Sì, no, non ho capito Sì, come c'è E' un'acostini lungo E' un'acostini lungo E' un'acostini lungo E' un'acostini lungo E' un 15 agostini E la parte finale 20 mila euro 20 mila c'è un lastrone di ghiaccio tutto l'estero che ci si passa quindi c'è sempre visti si con lui ma abbiamo fatto il giro alto andiamo giù ancora di più o facciamo tutta la strada di più no andiamo su alla bata poi viene giù a destra e abbiamo fatto la roba e non lo so io non sono Giovanna Giovanna è lui sono Margherita e non lo so 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 no Trenino Milano Lambrate Trenino Li No Trenino Io Mi hai portato a essere a sinistra io ma alla fine ti ritrovi un uretto giù lì chi becca tutti i bollini arancioni e ti frega no? si e avanti che sono a sinistra davanti io qui dai non c'ho quello non quello lì non 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 ci se non 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 No Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.